Mare, mare, mare 12esima edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Rapoletana Un viaggio sul mare, come sempre unico, esclusivo e divertente La grande organizzazione della Scoop Travel, un'idea di Francesco Spinosa Dal 21 al 28 settembre sulla nave MSC Opera Si partirà da Napoli, in bus, Gran Turismo Per salpare da Bari e toccare i porti e le mitiche città greche Di Mykonos, Corfu, Santorini, La Perla del Montenegro e Cotor La grande bellezza italiana Venezia Sette notti, otto giorni con gli artisti di quest'anno Marisa Laurito, Francesca Marini, Antonio Siano, Diego Sanchez e Amadiacolella Dal 21 al 28 settembre non puoi mancare C'è la dodicesima edizione della Crociera della Musica, Arte e Cultura Napoletana Sulla MSC Opera, per un viaggio unico e ripetibile, indimenticabile Relax, divertimento, mare, sole, gastronomia Di tutto e di più Si salpa, 21-28 settembre, MSC Opera Vieni con noi!